Ciao a tutti ragazzi e bentori sul canale, come va? Spero che state bene, che stai trascorrendo una splendida giornata tanto tuonò che alla fine tornò sereno e infatti Bremer ha rinnovato il proprio contatto con il Torino, scadenza 30 giugno 2024 ora in questo video ne parleremo, andremo un pochino a snocciolare la situazione per vedere un pochino quali potrebbero essere gli scenari comunque, prima di iniziare ogni video, come sempre vi invito a lasciare un like al video iscrivervi al canale, attivare le campanelle notifiche per rimanere aggiornate sulle news di supportare le mie serie gameplay e ovviamente dà un'occhiata qui sotto al link in descrizione che vi porta al mio secondo canale di E-Musichi dove parlo soltanto di musica ma veniamo quindi a noi, vediamo un pochino come contestualizzo questo rinnovo di Bremer giocatore classe 97 del Torino che per tutto il mese di gennaio è stato nell'occhio del ciclone per quanto riguarda il calcio mercato inizialmente aveva il contratto di scadenza al 30 giugno 2023 e molte squadre, anche italiane, si sono interessate al difensore brasiliano inizialmente il Milan, poi si è accotato l'Inter si è accotata l'Inter, poi si è accotata la Juventus e anche qualche club estero si parlava di una votazione sui 25 milioni di euro che, qualora poi il giocatore fosse entrato nell'ultimo anno di contratto quindi il contratto sarebbe comunque scaduto nel giugno 2023 ma il trasferimento magari si sarebbe concretizzato qualora un trasferimento si sarebbe concretizzato a partire dal primo luo 2022 si può capire come un giocatore che è entrato nell'ultimo anno di contratto non fornisce una grandissima forza contrattuale al club che ne detiene i diritti sportivi perché comunque poi magari la gente, magari il giocatore ambizioso dice ok, io però non ti rinnovo il contratto sono nell'ultimo anno devi, diciamo metaforicamente, chiedere una cifra inferiore rispetto ai 25 milioni quindi la cifra più è minore più appetibile sul mercato soprattutto su un giocatore talentuoso più la cifra è minore più la gente può spingere per un ingaggio maggiore sono tutti questi giochini però probabilmente per un discorso anche di gratitudine verso la squadra e la squadra da un certo punto di vista di gratitudine verso il giocatore quindi magari gli ha fatto un rinnovo non so esattamente se sia stato un rinnovo con ritocco dell'ingaggio ad alzare ma qualora fosse stato così insomma dice ok, io ti alzo un po' lo stipendio sensibilmente di 200, 300, 400 mila euro comunque serve un ingaggio abbortabile e poi qualunque squadra che ti va a prendere diciamo così insomma tu puoi giocare un po' più sull'ingaggio quindi magari ecco se prendeva 1.8 netti se non erro era nello stipendio 1.7-1.8 netti al Torino magari gli ha fatto rinnovo di un anno a 2003 e poi magari se poi lo vanno a cedere magari poi gli puoi chiedere sui 3.5 quindi il range di manovra sul ritocco dell'ingaggio secondo me sarebbe anche un po' più importante ma una cosa da sottolineare perché di un anno il rinnovo semplicemente per il motivo che a mio avviso il Torino ha messo in conto di perderlo in estate perché comunque evidentemente tutti gli interessamenti per Bremer sono stati anzi sono confermati tacitamente quindi dice ok io mi assicuro un anno in più di forza contattuale il giocatore non mi va a scadenza il 2023 però io ti vado a cedere per il motivo che il Torino offrebbe una grandissima plus valenza che la cifra secondo me potrebbe non essere inferiore 35-40 milioni di euro e tutte queste cose qui sappiamo bene che il Torino per il Torino una cifra sui 40 milioni di euro sarebbe veramente una mano santa un po' per tutte le squadre vediamo anche la Fiorentina che è dovuto succedere Blaovic perché avete letto il dedicato di commisso 75-75 milioni di euro è un fatturato anno della Fiorentina quindi capiamo bene come adesso in epoca Covid il lato economico sia molto importante però ecco secondo me hanno messo in conto di venderlo poi in un commento se non erro sotto la live l'ultima volta che ho fatto con Falso Neve sul suo canale mi raccomando se non l'avete vista andatevela a recuperare perché abbiamo affrontato tanti temi importanti poi a breve riandrò nel live con Falso Neve si parlava di gatti quindi alcuni tifosi di Granata un po' davano conto al giocatore un po' alla Juve un po' al Torino per il discorso che insomma i Granata si sono fatti soffiare sotto gli occhi da dire che l'offerta della Juve era uguale a quella del Torino la discriminante è stata che il Torino lo voleva subito mentre la Juventus era pronta a lasciarli in prestito per sei mesi capite che per un discorso puramente tecnico di squadra il Frosinone ha detto ragazzi io sei mesi me lo tengo anche perché magari sto lottando per degli obiettivi quindi insomma una colonna come gatti per i sociali insomma era importante però io poi l'ho scritto in un commento non escludo un'altra un'altra casistica seguitemi un po' porzi gogolata allora la Juventus ha pagato al Frosinone 7.5 milioni di euro più 2.5 di bonus però contando che ripeto io nel calcio moderno difficilmente credo a favole come Torricelli che dalla caratese va la Juve o come Giaccherini che prima gioca in D e poi in due anni arriva in in Serie A e poi dopo tre la Juventus succesimo sta roba qui allora seguitemi un pochino la Juve paga 7.5 milioni di fissi più 2.5 di bonus il giocatore arriva a Torino a partire dal primo luglio 2022 però potrebbe essere girato allo stesso Torino per Bremer il che non vuol dire che la Juventus andrebbe a pagare di meno Bremer però con un investimento fondamentalmente discretamente contenuto o pari a quantomeno sui fissi 7.5 milioni di euro in tal caso quando vi fosse un piccolo gentleman agreement tra Juventus e Torino che succede che la Juventus avendo pagato 7.5 milioni di euro in primi si eviterebbe un'asta seconda cosa sbaraglia la concorrenza quindi seguitemi allora quindi gattiva la Juventus la Juventus lo gira magari non a titolo definitivo però magari in prestito annuale o biennale con diritto o obbligo di riscatto al Torino e la Juventus andrebbe a prendere Bremer per una X cifra in tal modo il Torino cosa farebbe? in che situazione si troverebbe? ad avere in primisi il sostituto naturale di Bremer a zero la Juventus farebbe plus valenza perché magari se il diritto di riscatto eventuale su un prestito biennale fosse di 7 milioni di euro se si calcola il piano di ammortamento 7.5 milioni di euro di parte fissa ammortizzati nei due anni di prestito poi su una base ma non mi ricordo se il contratto di gatti sia quadrennale o meno poi diciamo che tecnicamente sui 3.5-4 milioni di euro sarebbe insomma la cifra minima con la quale si dovrebbe cedere gatti per andare in pregi bilancio quindi magari te lo dà dopo due anni lo venderebbe altrimenti dopo due anni a 7.5 milioni di euro quindi facendo conti e la serva 3 milioni 3.5 milioni di euro di plus valenza cosa buona e giusta però il Torino si troverebbe gatti a costo zero in più incasserebbe i soldi e ci sono i bremer magari ci possono essere 2-3 milioni di sconto su ipotizzabili 40 la Juve dal canto suo in primis quando poi scatterebbe un eventuale obbligo per il Torino un eventuale diritto di riscatto la Juve farebbe plus valenza in più avrebbe sbaragliato la concorrenza per Bremer anche perché secondo me la Juventus potrebbe avere un futuro ancora breve perché secondo me tutti gli investimenti fatti sono in un'ottica di cedere l'olandese in estate quindi la Juve si dovrebbe rifare la difesa con un Chiellini e un Bonucci che sono un po' cariatidi un Rugani buon difensore ma non da titolarità della Juventus ecco che andando a prendere un Bremer lo metterebbe come perno sostituito di Richt quindi secondo me oh ragazzi è una follia la mia mente partorisce a volte robe così però le dinamiche del mercato sono più folli di me e quindi potete capire come potrebbe essere un qualcosa di verosimile fatto sta che ripeto andando al al main theme del video il rinnovo di Bremer è funzionale per il Torino in ottica soprattutto di cessione ma non escluda anche magari un 1% di permanenza quella poi magari cambiasse il DS magari altre prospettive magari acquisti molto sensati magari acquisti insomma votate una crisi del progetto magari Bremer potrebbe avere un 1-2-3% di possibilità di rimanere al Torino nobody knows però ripeto questo rinnovo annuale mi fa pensare che in estate Bremer vada via ovviamente tifosi del Torino non fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate ovviamente di rimando anche tifosi della Juve cioè comunque anche lei gioco forza state da timballo fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate mi raccomando lasciate un like al video iscrivetevi al carattere fate campanellina superi miei seri gameplay se non sguardo al mio secondo canale vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao